Bentornate e bentornati ad un nuovo video sul tornio, oggi andiamo a creare i tipici corni portafortuna e li creeremo sul nostro tornio super economico, come al solito vi lascio il link per acquistarlo in descrizione, e creeremo due forme, partiremo sempre dal cono, per questa forma andremo a fare le detorsioni sul nostro cono e invece su questa forma qui andremo solo a dargli questa curvatura. Mettiamoci al tornio e buona fortuna! M, buona ceramica! Allora andiamo a creare il primo corno, come al solito, centratura, prima fase, portiamo questo tubetto, facciamo finta che stiamo stringendo il tubetto e lo portiamo verso l'alto e verso il basso, verso l'alto stringendo, in questo modo qua rivediamo, così, e portando verso il basso, con questa parte qui spingiamo verso il basso, con questa teniamo e lo facciamo un po' di volte, in questo modo qua, e abbiamo centrato. dopo la centratura, l'apertura, andiamo ad aprire, lasciamo poco meno di un centimetro sulla base, 7-8 mm, dipende un po' dall'oggetto che vogliamo realizzare e dei nostri gusti. dopo che apriamo andiamo a richiudere, vi ricordo che tutte le fasi le potete trovare negli altri video nella playlist sul canale che parla del tornio, della lavorazione al tornio, quindi andiamo a innalzare le pareti e già creiamo la nostra forma a cono, quindi spingendo sempre verso il centro e chiaramente lasciamo più argilla sul bordo, che ci servirà poi per chiudere la forma, come abbiamo visto nel video sulle forme chiuse, quindi chiudiamo, adesso ci portiamo dal fondo, visto che le mani arrivano ancora, quanta più argilla possibile, quindi stringo, porto l'argilla verso l'alto, pian piano, voilà, richiudiamo la parte di sopra, così, e adesso andiamo a stringere, a portare, diciamo, l'argilla dal basso verso l'alto, solo dall'esterno, in questo modo qua, voilà, comprimiamo un poco il bordo superiore, tiriamo su un altro poco di argilla, da qui, che ce n'è in abbondanza, andiamo verso l'alto e spingiamo sempre verso il centro, in modo da non svasare ma continuare il nostro cono, chiudiamo ancora un pochino, ripetiamo l'operazione, portiamo tutta l'argilla adesso in superficie e stringiamo, così, in questo modo, stringiamo, voilà, e siamo pronti a chiudere il nostro corno. in questo modo qui. Vedete abbiamo creato la punta, togliamo un poco di barbottina qui dal fondo e adesso con la spatola di legno proviamo a dargli un poco di uniformità, quindi spingiamo, così gli diamo la diagonale, intanto saliamo un poco in questo modo qui, perfetto. Possiamo decidere anche di ribagnare invece e riassottigliare, assottigliare ancora un poco il nostro cono, in questo modo qui, in questo modo qui. man mano che andiamo verso l'alto lo stringiamo, così. Ah, l'ultima operazione che facciamo è assottigliare un poco la punta in modo che sia bella puntita come un corno. voilà. E adesso quindi siamo pronti a deformare il nostro cono. Che facciamo quindi? Lo inumidiamo, stoppiamo il tornio e facciamo questo movimento, lo stringiamo e lo avvolgiamo partendo dal basso e andando pian piano verso l'alto, in questo modo qui. Partiamo dal basso, continuiamo, ci alziamo un poco, continuiamo e ci rialziamo. E lo facciamo di nuovo. Ripartiamo dal basso, stringiamo, adesso la punta, in questo modo qua. Volendo possiamo anche dargli un'inclinazione, quindi lo possiamo spingere lievemente prima da una parte e poi dall'altra. Quello che facciamo però prima di toglierlo dal nostro piatto è far girare lentamente il tornio, togliere la barbottina alla base, con lo stecchetto di legno togliere la barbottina in eccesso in modo da poterlo prendere con le mani per staccarlo. Togliamo un piccolo piede, ok, fermiamo il tornio e siamo pronti per staccarlo con il nostro filo. Prendo il filo, lo porto dietro e come al solito taglio un paio di volte, una e due. E sono pronto a staccare il corno. Allora questo secondo corno invece lo facciamo più smilzo, quindi più sottile e più alto. Spingo sempre dalla base e vado verso l'alto. Stringo, 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 stringo. Richiudo tutto verso il centro. Ripeto dal basso verso l'alto. Chiudo, vado a stringere. Ristringo in questo modo qui. Vedete che non c'è un solo modo per mettere le mani sull'argilla, ma possiamo usarne tanti per fare la stessa operazione. Quindi stringo. questo alzo e chiudo. Prima di chiudere completamente vado a stringere un po' dal fondo. Salgo, vedete, lentamente. Lo rifaccio un'altra volta. Vedete, è venuto proprio più stretto. Quindi che facciamo? Stringiamo, togliamo qui la parte in eccesso. Stringiamo ulteriormente, in modo da sfilare qui la punta. Con la stecca ci aiutiamo. Saliamo pian piano. Stringiamo un poco pian piano che arriviamo alla punta. Togliamo un piccolo piedino e fermiamo il tornio. Allora, questo corno che è venuto più alto e più sottile. Invece di dargli questo twist, diciamo di dargli questa torsione, invece lo andiamo solo a modificare nella forma. Quindi gli diamo delle curve. Quindi prima in questo modo, così, e poi dall'altra parte. In questo modo qua. Quindi prendiamo sempre il nostro filo, tagliamo un paio di volte e anche questo corno è pronto. Un'altra versione, ma sempre la stessa tecnica. Chiaramente, come in ogni forma chiusa, dobbiamo permettere all'aria di fuoriuscire, altrimenti potrebbe creparsi. Soprattutto in cottura potrebbe scoppiare. Quindi quello che andiamo a fare è forare con un qualsiasi strumento appuntito, quindi forare il cono dove preferiamo. In questo caso lo vado a forare, vado a creare un piccolo foro qui sulla base, in questo modo qui, in modo da far uscire l'aria.